Oggi si conclude un progetto, un progetto iniziato tempo fa, è un progetto importante con la donazione di un comodato gratuito, di un automezzo accessibile per poter utilizzare con gli ospiti di questa ASPE. È un progetto che è nato da una collaborazione, da dove c'è stato un proponente, i progetti del cuore, e tante aziende sponsor che hanno permesso di realizzare questo risultato. Il risultato importante è perché molti magari si domanderanno oggi, io sarei il primo a dirmi, ma la casa ASPE di Montevarchi, come potrà utilizzare questo mezzo? Io credo che questo mezzo abbia una grandissima importanza perché all'interno di questa struttura ci sono dei diurni, delle persone che vengono prelevate da casa, riaccompagnate a casa la sera, ci sono persone che devono andare a visita medica, quindi i trasporti e la logistica diventano un elemento essenziale, spesso rimasto un po' nascosto ma diventa essenziale. È una donazione molto importante, è un progetto che io ho praticamente ereditato e conosciuto da poco ma che ha un grande valore, innanzitutto per tutti gli sponsor che hanno contribuito, ma è il lavoro incomiabile della Progetti perché appunto apporta un veicolo che sarà un valore aggiunto per l'attività dell'ASPE. È fondamentale la collaborazione in progetti di questo tipo, la collaborazione intendo fra le imprese del territorio, quindi gli sponsor, questi signori che sono qui alle mie spalle, che hanno contribuito, noleggiando uno spazio pubblicitario sulla carrozzeria del mezzo, a far sì che questo progetto si realizzasse. Infatti oggi viene inaugurato qui questo Fiat Doblò attrezzato di pidana che verrà utilizzato dalla PSP di Montevarchi per i servizi che deve fare per i residenti e gli ospiti della struttura. Quindi il nostro gruppo, Progetti del Cuore, ha iniziato qualche tempo fa una collaborazione con la PSP appunto proponendo questo automezzo incomodato di uso gratuito. Il Comune, l'amministrazione da parte sua ha sostenuto questo progetto formalmente e oggi siamo qui alla consegna e speriamo che di qui in poi sia molto utile e migliorino ancora di più i servizi che questa struttura offre.